Amedeo Amedei si chiamava! Ecco perché il mio figlio si chiama Amedeo. Pensa tu se si chiamava Tardello Tardelli. Ma papà si è fatto tardi, devo andare in ufficio, ci vediamo stasera. Ciao, 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 pazzo. Hai capito, povera creatura mossa deve attraversare tutta Roma tutte le mattine. Però è un ragazzo che mi dà tante soddisfazioni, eh, sì, sì, sì. Ma ti immagini se mi lasciava un figlio naziale, eh? Meglio frocio.